Presidente Montauti, oggi siamo live qui tra Corso San Giorgio e tutte le altre zone del cuore dell'Interamnia, perché questo è il percorso vero, quello denso dei significati dell'Interamnia, qui l'Interamnia si accenderà fra qualche giorno, come procedono i lavori? Manca davvero poco. Sì, siamo nell'ultima fase, quella un po' più complicata, quella più delicata, in cui dobbiamo mettere a punto tutto, qui in questa piazza sarà il cuore, come dicevi, dell'Interamnia, dove si svolgerà un po' tutto, cerimonia iniziale, quelle conclusive, altre cose belle, quindi siamo qui a mettere a punto le ultimi preparativi per accogliere tutta questa gran massa di giovani che verranno da tante nazioni del mondo, quest'anno faremo il record delle nazioni e verranno anche tante personalità, abbiamo tante iniziative, l'ultima l'abbiamo conclusa l'altro giorno, un concorso internazionale rivolto ai ragazzi e bambini del mondo, i quali hanno espresso delle loro idee su alcuni temi particolari e sono venute a galla tante, tante, tanti di quegli aspetti che la giuria, che sono riusciti appunto a commuovere anche la giuria che ha dovuto prendere in esame questi concorsi e questi elaborati, per cui avremo un convegno con la presenza di personalità, con i sindaci che verranno da diverse città del mondo a Teramo, dibatteremo queste tematiche e alla fine trarremo delle conclusioni e sono delle indicazioni che i giovani danno al leader di domani, questo è il titolo del concorso, e come dire, i giovani vogliono dire ai leader di domani, state attenti, salviamo il mondo, il mondo sta andando un pochino in rovine, allora danno delle indicazioni, danno delle dritte, portando degli esempi, esempi molto interessanti e questa diciamo è una novità in più che abbiamo voluto inserire per celebrare questo quarantesimo anniversario, un anniversario che è ricco di iniziative, con presenze di gruppi culturali dai cinque continenti, dicevo da squadre da tante nazioni, addirittura 60 nazioni anche qui di cinque continenti, quindi ecco, diciamo, siamo per darvi via ad una grande festa, una festa che si ripete da tanti anni, ma che quest'anno deve avere un significato tutto suo, un significato particolare, con dei contenuti forti, speriamo di riuscire a celebrare questo anniversario. Presidente, intanto grazie, le facciamo un grosso in bocca al lupo e chiudiamo con un'ultima domanda. Noi sappiamo perché lei ha sempre dimostrato di essere fatto così nel corso della sua vita e della sua carriera legata all'Interamnia. Lei una parte della sua giornata senza dubbio la dedicherà alla prossima edizione dell'Interamnia, lei è una persona che si impegna sempre sul presente, l'Interamnia è quarantennale oggi, quindi si deve pensare a questo, però noi siamo sicuri che lei ha già una parte della sua mente rivolta alla prossima edizione. Sì, soprattutto perché noi di anno in anno cerchiamo di fare delle conquiste, no? E quest'anno credo che forse riusciremo a fare un'ulteriore conquista. La conquista consiste nell'allacciare rapporti con la città di Roma e col suo sindaco, perché quest'anno noi faremo visita con i nostri illustri ospiti a Roma nella sede del Campidoglio e lì getteremo le basi per una futura collaborazione anche con Roma, perché Roma da un anno sta dimostrando di essere città della pace. E allora ecco nascerà un connubio tra Teramo e Roma e noi vogliamo dimostrare che anche Teramo, in modo suo, è città di pace. E forse questo sarà un input in più che noi avremo per portare avanti la Coppa a seguire il quarantesimo anniversario.